allora cosa va Sergio? vai su veloce eh? vai su brillante perché è gelato vado 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 Grazie a tutti. Voto di merda. Oh, dammina mia! Oh, dammina mia! Ah, lo sapevo che mi facevi così. E io dopo te la mano va indietro. No, boh, basta. Boh, 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 tengo io stretto. E io non la scuola. Ho detto, è giacciato. Mi sembra, ma non viene. È giacciata. È giacciato. Oh, no. Ah, ah! Non so mica si ho fatto lo fare, eh! Oh, è che sono tutto l'ataconomia! Jacopo, hai fatto il video? Ah, sì!